Martina Peterlini, Proformia, parliamo subito di una notizia freschissima, ruolamento con l'FM Oro Polizia, una roba proprio dell'ultima ora. Sì, sono davvero contenta, devo molto a questo gruppo sportivo, anche perché sono attesserata da tre anni, mi trovo davvero bene e adesso sono riusciti a ruolarmi e davvero sono molto molto contenta, darò il meglio di me stessa. Un anno e mezzo incredibile, fantastico, dalle FIS alla Coppa Europa, alla Coppa del Mondo, un sogno e in realtà adesso sei in squadra, il primo giorno di scuola oggi. Sì, esatto, sono molto felice della mia promozione e ovviamente è un punto di partenza e così deve essere, perché sono ancora più motivata, diciamo di questa promozione, a fare meglio, a far sempre meglio e a impegnarmi al 100% per le prossime stagioni. Certo, tu hai fatto veramente questo anno e mezzo, due, una crescita sensazionale, prima hai avuto, racconti, dei problemi diversi, infortuni che hanno frenato un po' la tua scesa. Sì, sì, beh, mi sono retta al piatto di Viale nel 2012 e poi in seguito al crociato e ho perso tre anni e poi ho fatto il secondo anno giovani, che era il mio primo anno vero di FIS e poi sono entrata in squadra e adesso è un periodo dove sto bene, sto davvero bene fisicamente, sono molto contenta e sta andando tutto bene anche dal punto di vista atletico e niente, sono davvero molto contenta. E che effetto ti fa appunto in questo breve periodo essere con la Marta Bassino e quindi con le big delle discipline tecniche? Ancora più motivazione, una spinta in più per fare ancora meglio e più motivazione sinceramente, sì, più determinazione. Grazie. Grazie. Grazie.